La situazione meteorologica per il fine settimana vede la preminenza di un'alta pressione su gran parte del comparto europeo, quindi anche sulla nostra regione, bel tempo, però con tendenza al ristagno dell'umidità nei bassi strati, specialmente a partire da domenica. Dando con ordine, sabato prevediamo cielo in genere poco nuvoloso, più che alto per velature ad alta quota, nubi alte e sottili di poco conto, ancora relativamente fresco al mattino, di notte al mattino, naturalmente nei fondovalli in montagna, dove c'è una marcata in versione termica, e anche in pianura con qualche locale gelata. Temperature intorno ai 6-7 gradi invece più miti sulla costa. Massimo invece miti dappertutto, in montagna tutte le quote, valore fino ai 14-16 gradi su pianura e costa. La giornata di domenica sarà ancora caratterizzata in prevalenza dal cielo sereno, specialmente sulle zone più elevate, quindi alta pianura, colli, carso e zona montana, con temperature molto miti, ma in versione termica nei fondovalle di notte e primo mattino. Su bassa pianura e costa, nelle ore notturne, si addenseranno nebbie e anche nubi basse, che potrebbero però interessare anche qualche ora diurna. Tempo nebbioso anche lunedì e martedì, con cielo coperto da nubi basse e punto da nebbie, su bassa pianura e costa, e ancora invece migliore per quanto riguarda le zone più elevate. Temperature rimangono stazionari o in diminuzione nelle zone interessate da nebbie e nubi basse. Dalla Sottotelometro dell'Arpa, Arturo Pucillo vi saluta.